cani e persone che si somiglia si piglia chi prende un cane magari lo prende per tanti motivi osservando a volte foto noto che cani e persona si somigliano magari un cane barbuto è preso da una persona barbusa oppure una persona robusta prende un cane robusto tipo molossoide oppure ci sono persone che magari sono persone attive e prendono un cane adatto per correre ci sono persone a cui piace essere coccolati e cercano un cane che sia affettuoso altre persone che sono estroverse e magari prendano un cane vivace come potrebbe essere un labrador un golden oppure anche un jack russell che magari i movimenti un po la vita ci sono persone che hanno bisogno di accudire sentono questa necessità magari per queste possono andar bene anche qualsiasi cane ma se ha per esempio ci sono persone che piace avere qualcuno un essere vivente da tenere in braccio magari prendono cani piccolini e in ogni caso si vede anche tante volte dalle foto che c'è appunto questa somiglianza a queste relazioni ci sono persone che magari sono più riservate e magari prendono un cane tipo lupoide che può essere appunto un cane riservato altre che piace la libertà la natura magari potrebbero prendere un cane tipo lupo circolovacco lupo di sarlos e così via magari chi ha bisogno che sente un senso di protezione lo avverte ha bisogno di cui di appunto di sentirsi protetto magari prende anni da guardia o da difesa quindi potrebbero essere rottweiler e cani da guardiania il pastore mare mano eccetera l'importante è volergli bene e quindi chi si somiglia si figlia ciao da stefano pesci istruttore donatore cinofilo comportamentale specializzazione norvegese nella risoluzione problemi del comportamento del cane del benessere del cane ideatore del metodo toghera dog e le sceno cane insegnante chi si somiglia si piglia il mio berretto è uguale al colore del cane del pelo del cane il mio sito se ti fa piacere è www.istruttorecinofilo.it se ti fa piacere contattarmi o scrivermi ciao chi si somiglia si piglia